...di poter crescere e svilupparsi. Allora, con il voto a Forza Italia, mobilitando tantissimo quella che è la capacità di dare risposta e concretezza di progetto, vogliamo che i cittadini ragusani tutti possano determinare un cambiamento forte, un cambiamento non solo rispetto al governo che ci ha lasciato, ma anche ad esempio rispetto al governo della nostra città, un governo a qui da grillina che ci ha fatto diventare la città con la più alta tassazione d'Italia, ci ha fatto diventare una città con i minori servizi garantiti ai cittadini. La incompetenza, l'approssimazione della presenza grillina deve essere un esempio di ciò che temiamo possa succedere a livello nazionale. E allora tutti quanti in maniera in maniera compatta, dariamo il simbolo di Forza Italia, diamo fiducia all'unico leader nazionale, Silvio Berlusconi, che ha messo nel programma un piano Marshall per la Sicilia, un piano diretto a far crescere complessivamente i tre settori strategici della nostra economia, l'agricoltura, il turismo e la logistica. Siamo l'avamposto nel Mediterraneo dell'Europa. Con questo riusciremo a dare risposte serie, non pasticciate, a quello che è l'occupazione giovanile. I nostri giovani devono poter trovare qui la loro possibilità di futuro. Con il progetto della Flax Tax avremo un sistema di tassazione che non ci opprime. Ricordiamoci, i governi che ci lasciano ci hanno consegnato 6 milioni di famiglie che sono sotto la soglia della povertà. Noi tutto questo dobbiamo lottare con la buona politica e con il buon governo. Per questo chiediamo il voto per Forza Italia e soprattutto tanta partecipazione al voto. Domenica prossima si voterà solo un giorno dalle 7 alle 23.